Da molto più di un anno Taranto è invasa da tubi volanti, diciamo così, installati dall'acquedotto pugliese. Evidentemente dovevano assolvere ad una funzione temporanea, momentanea, ma così certamente non è. Perché vedete questi tubi che imperversano soprattutto nel borgo di Taranto, sono adiacenti ai marciapiedi e quindi creano anche intralcio e pericolo di caduta, ma evidentemente non hanno più una funzione così momentanea, ma sembra essere diventata stabile, cioè come se facessero parte del corredo urbano. È passato molto, ma molto più di un anno e qui addirittura sono stati anche interrati, lo vedete, interrati appunto sotto l'asfalto. Per cui c'è un unicum e cosa inaudita, nessuno interviene. Ma un'amministrazione comunale, il sindaco Melucci, l'assessore ai lavori pubblici, l'assessore al patrimonio, non dovrebbero rivolgersi all'acquedotto pugliese e dire Va bene, questa era una fase momentanea, temporanea. Ora l'emergenza, l'aspetto momentaneo è finito, andiamo quasi a due anni. Cosa dobbiamo fare? Questi lavori devono rimanere sospesi per aria per sempre, anche perché si sono registrate molte, ma molte cadute, ma anche danni alle automobili con riferimento ai pneumatici che soprattutto urtano molto spesso contro i fermi di ferro che vengono messi. Ma, ripeto, qui ci sono pericoli davvero significativi. Ripeto, Taranto è una terra di nessuno perché l'amministrazione comunale, l'amministrazione Melucci, non esegue i controlli presso le ditte, presso gli enti, anche quindi enti pubblici che realizzano i lavori. Gli enti, le ditte, si sentono come dire, sono legibus soluti, nel senso che possono fare quello che vogliono, l'amministrazione comunale non interviene e quindi questi fanno i comodacci propri perché nessuno appunto li controlla. È un'emergenza, tutto il borgo è pieno di queste schifezze, di questi tubi che ormai penso che di questo passo rimarranno in eterno, rimarranno per sempre. Guardate per esempio qui via Crispi, angolo via Bruno, lo scivolo per i disabili, e la carrozzella si trova un'intralcio enorme, questo tubo. Melucci, Melucci, devi avere rispetto dei disabili, devi intervenire, intervenire, guarda qua come fa una carrozzella e parlate di rispetto dei disabili, verso i disabili, ma state zitti per cortesia. Melucci, è l'ora di svegliarsi, Assessore Azzaro, al patrimonio, perché questo è patrimonio, le strade fanno parte del patrimonio del Comune di Taranto, Assessore ai lavori pubblici, Mattia Giorno, fai tanto il presenzialista, intervieni, questa è Taranto. Guardate come siamo ridotti, i tubi volanti in eterno a Taranto. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS